C'è indubbiamente sconcerto e preoccupazione presso i tifosi del Milan perché non vedono lievitare i ragazzi, il gioco dei ragazzi, le prestazioni dei ragazzi. Ieri sera sono stato a lungo attento alle dichiarazioni di Marco Giampaolo che invoca pazienza e tempo, ma fino a quando? Quindi questa è una delle domande. Chiaramente i risultati, i sei punti, permettono alla squadra e all'allenatore di lavorare con un po' di serenità. Però indubbiamente il Milan visto nelle amichevoli prestigiosi in America e a Cardiff non si è più visto. Partiamo però da un dato di fatto positivo. C'è qualcosa di positivo. Il Milan ha subito solo un gol. Fa fatica in attacco. Avrà chiuso cinque occasioni tra Cesena, Udinese, Brescia e Verona, realizzando solo due gol di cui uno su rigore. Però indubbiamente andiamo a prendere questo lato positivo. Qualcosa di positivo bisogna andarlo a trovare. Davanti una grande fatica. Gioco a centrocampo molto lento, prevedibile, molto perimetrale, molto fraseggiato, ma fraseggiato, diciamo così, un po' un fraseggio fine a se stesso. Quindi su questo punto non ci piove. Ieri ho messo il mio Instagram, serata bellissima, serata da Milan, e ovviamente critiche che io rispetto, ma io parlo italiano. Serata bellissima, serata da Milan. Perché sono andato a vedere le partite del Milan. Per me quando vado a vedere la partita del Milan, qualsiasi partita del Milan, a prescindere è bella. Che quella partita di ieri fosse stata bella, ovviamente non ho gli occhiali, vedo, non mi sono neanch'io divertito a vedere quella partita, quel modo di giocare. Quella partita non ricca di emozioni, di divertimento. Non è che voi vedete una partita, ne vedo un'altra. L'abbiamo visto uguale. Ho detto serata bellissima da Milan perché sono andato a vedere il Milan. Parlo italiano, serata bellissima, virgola, serata da Milan. Quindi chiariamo, non mi piace mai rispondere ai commenti, però essere preso per visionario non mi piace. La serata è bella quando vado a vedere il Milan, a prescindere. Sono andato in serie B, ho perso delle finali di Coppa, però ho passato un'ora e mezzo come dagli anni 50 con il Milan. Quindi ecco perché dicevo serata bellissima, serata da Milan. Non ho detto partita bellissima, altrimenti sarei stato un visionario. Detto questo, ed è l'ultima volta che rispondo ai commenti, ma se io scrivo partita bellissima, ma serata bellissima, serata da Milan, mi sembra di essere chiaro. Si vede che ho sbagliato io e non sono chiaro. E quindi quelli che hanno scritto, tu hai passato, Milan ha giocato una partita bruttissima, si vede che non mi sono spiegato. Non ho scritto da nessuna parte che è stata una bella partita. Chiuso questa parentesi e non risponderò più ai commenti da adesso in avanti. Però a un certo punto, quando scrivo A e mi dicono tu hai scritto B, va bene. Stavo dicendo che c'è un punto importante, un punto significativo, il fatto che il Milan abbia subito solo un gol in quattro partite. Perché se mettiamo Cesena, che non è una partita ufficiale, fra le partite nefaste a livello d'attacco, la mettiamo anche a livello di amichevole. Quindi un amichevole tre partite, nefasto in attacco, ma la partita di Cesena la mettiamo fra le partite dove il Milan non ha subito gol. Se non volete toglierla, togliamola. Allora, nelle tre partite di campionato, il Milan ha subito solo un gol. Quando meglio, meglio, il Milan l'ha fatto solo una volta, nella stagione 93-94, quando per le prime 6-7 partite non subì gol, ci fu il gol a Foggia che ruppe questa striscia meravigliosa di Sebastiano Rossi. Il Milan nelle prime tre partite non subì gol e subendone uno nelle tre partite della stagione 19-20 e è stato solo in quella stagione 93-94, il Milan aveva fatto meglio. Quindi è un Milan dei record che batte tutti i record quell'anno. Quindi teniamoci stretto perché in questi anni uno, due o tre volte era capitato che nelle prime tre partite il Milan avesse subito un gol e, ripeto, meglio l'aveva fatto solo nel 93-94. Quindi una difesa importante aiutata magari da un giocatore criticato come Biglia che non certo velocizza l'azione in attacco però probabilmente sa coprire bene i movimenti della difesa e chiudere le diagonali avversari. Tutto sommato, pur colpendo un palo e soffrendo in un paio di occasioni, grandi parate, Donnarumma come contro il Brescia, invece ne ha fatto una molto bella con l'Udinese e con l'Udinese il Cesena ma tutto sommato non è stato molto impegnato. Quindi partiamo da quello, se il Milan continuare con questo trend in difesa deve solo migliorare l'azione d'attacco. Se riuscirà a migliorare l'azione d'attacco anche realizzando 1-2 gol con questa saldezza difensiva che il Milan può andare avanti. Detto questo non ci siamo divertiti, è stata una partita troppo sulla falsariga. Attendiamo, come dicevo nel mio video su YouTube di questa mattina, che la squadra cresca per darci speranze, per darci morale, per darci un viatico, ripeto una speranza per andare avanti. Ma intanto il Milan è un punto dalla Juventus. Andrò a vedere statisticamente, nelle prime tre partite del campionato quante volte il Milan negli ultimi anni era solo un punto dalla Juventus. C'è l'Inter arrembante, non mi sembra che le partite dell'Inter sul piano spettacolare abbiano portato a creare un DVD per celebrarle. È stata un'Inter tonica, sarà sempre, come sempre, le squadre di Antonio Conte squadre toniche, squadre organizzate, squadre forti, squadre forti anche nei componenti della Rosa. Quindi l'Inter è avanti, non ha dato spettacolo come non sta dando spettacolo la Lazio, come non sta dando o a parte o la Juventus. Però a noi le altre squadre non interessano, vogliamo vedere crescere il Milan. Vogliamo vedere il Milan che abbiamo visto col Manchester United. Diamo una speranza prima del derby. Col Manchester United il Milan ha giocato, come col Benfica e il Bayern, una grande partita contro una grande squadra forte. Forse giocando contro questo tipo di squadre, rischiando certamente, potrebbe ripetere quella partita. Vediamo, abbiamo tutta una settimana per parlarne. Non è stata una bella partita, non è stata una partita divertente, ma il Milan ha subito 0 gol. Quindi serata bellissima, serata da Milan. Capite cosa voglio dire. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelletti.